Grazie per gli artisti interventi. Tanti artisti tutti insieme, in un'unica sera, per ricordare Pippo Montalbano. Ieri sera a Montaperto, la città di Agrigento, ha voluto rendere omaggio ad un grande attore di cinema e teatro agrigentino, prematuramente scomparso lo scorso 8 marzo. Dopo essere stato premiato a Roma il 7 luglio, durante la rassegna pirandelliana 2009, interamente a lui dedicata, e dopo essere stato a lungo ricordato nel quartiere di Montaperto, durante la presentazione e promozione di un DVD ufficiale del presepe vivente di Montaperto, ieri sera al centro della serata, la vita e la lunga attività artistica di Pippo Montalbano, che proprio aveva ricoperto il ruolo di direttore artistico del DVD sulla manifestazione natalizia, nella sua prima e fortunata edizione. Francesco Buzurro, Nino Bellomo, Sara Chianetta, Lia Rocco e Salvatore Curabba, e ancora i Triquetra, Nino Seviroli, Daniele Dallascala, Ilenia Costanza, Giovanni Sardone, insieme a tanti altri ieri sera hanno reso omaggio contesti di prosa e poesia, accompagnati dalla danza in una serata organizzata dal comune di Agrigento, in collaborazione della famiglia del grande attore di teatro e di cinema.